Tra i volti nuovi di questo Messina c'è Lorenzo Paramatti, chiedo prima di tutto di presentarti ai tuoi nuovi tifosi, qual è il tuo ruolo? Io sono un difensore centrale, uno che punta molto sul fatto che non si arrende mai, che dà tutto se stesso, cosa che cercherò di fare indossando questi colori, come ho sempre fatto. In passato settori giovanili di assoluto rispetto, come ti sei trovato sia a Milano che a Bologna? Ho fatto tre anni nel Bologna, quattro anni nell'Inter e mi sono trovato molto bene, sono stati sette anni complessivi in cui sono cresciuto molto anche a livello umano, siccome all'età di 14 anni sono passato dal paese in cui vivo a una metropoli come Milano. Qualche allenatore in particolare che ti ha cresciuto, che ti ha insegnato a fare bene nel calcio? Sicuramente ogni allenatore mi ha insegnato qualcosa, sia a livello giovanile che anche a livello di prima squadra, adesso citarne uno non mi viene in mente, perché appunto ognuno mi ha trasmesso qualcosa. L'anno scorso invece a Siena, che campionato è stato? Ci dicevano di una società che adesso sta vivendo un'estate un po' particolare. Sì, adesso sta vivendo un'estate particolare e l'anno scorso personalmente è stata, penso, una buona stagione, perché dopo essere saliti dalla Serie D siamo riusciti a arrivare in semifinale di Coppa Italia e a disputare un buon campionato fino a chiudere al quinto posto. Eri peraltro con due messinesi, Portanova che ha lasciato un ricordo superlativo e poi anche con Silvestri che è stato uno dei difensori più amati, nonostante sia arrivato in anni successivi, non certo quelli della B. Sì, Daniele è un ottimo giocatore che nel corso dell'anno appunto anche lui come allenatore Carboni mi ha insegnato molte cose e Silvestri fino a gennaio ha avuto la fortuna appunto di giocare con lui, reputo appunto un bravissimo ragazzo. E che campionato sarà questa Lega Pro? Sarà in pratica una novità per te? Ah, sicuramente è il primo anno appunto che disputò il campionato nel Gironi C, non mi sento di promettere nulla ma che faremo di tutto per onorare al meglio il campionato e la maglia. In questo gruppo tanti giovani, può essere un limite tutta questa gioventù? Ma io non penso, l'importante è che chi vada in campo dia il massimo, poi ovviamente l'esperienza può aiutare e dare il proprio contributo, però chi va in campo deve dare il massimo. Conoscevi già Mr. Bertotto, il suo staff? No, sapevo appunto di Mr. Bertotto come giocatore, poi ho visto che allenava la nazionale, però diciamo che prima di allora non avevo mai avuto nessun tipo di rapporto. In difesa ci sono elementi di grande esperienza, Burzigotti, Yonut, ecco, possono aiutarvi a crescere? Sì, come dicevo prima, gli elementi appunto con esperienza servono innanzitutto per dare il loro contributo e poi per aiutare quelli più giovani come me e altri ragazzi a crescere. Ultima battuta, su Fiuggi, come vi state trovando? Ma io personalmente mi sto trovando bene, è un bel posto, molto disponibili e sta andando tutto bene, dai. Grazie. 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 Grazie.